Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati da Canale 2, c'è dopo il Tg la consueta rubrica di approfondimento della nostra emittente che ogni giorno tratta una tematica diversa con un ospite in studio. Vi presento subito l'ospite che abbiamo qui con noi, è una simpatica signora, presidente della FIDAPA di Altamura, Rosanna Galantucci, imprenditrice, tra l'altro la sua azienda è anche inserzionista sulla nostra emittente, quindi dobbiamo dire che l'AGL è un'azienda che in questi 50 anni è anche riuscita a raggiungere posizioni interessanti nel piano del mercato. Grazie, ma oggi parliamo di FIDAPA. Bene, è giusto perché parleremo di un tema interessante, oltre che a parlare di FIDAPA. Facciamo così, andiamo per ordine, partiamo dal tema principale per il quale oggi ti abbiamo invitata qui in televisione, perché ad Altamura la FIDAPA ha organizzato un convegno, direi importante, da seguire per i suoi contenuti, ecco qua. E qui abbiamo la locandina e avete FIDAPA di Altamura, che poi è anche un'organizzazione Business Professional World Italy, Women Donne. Sì, è un'associazione internazionale che esiste ormai da 85 anni, quindi è presente in tutto il mondo e dobbiamo farla continuare a vivere e ad espandere soprattutto. No, no, io vorrei che la regia resti un po' sulla locandina, perché questa è una foto che da sola trasmette un messaggio. Abbiamo il rosa, che rappresenta la donna e abbiamo tre donne con i capelli rasati. Oggi parliamo di un tema abbastanza interessante, parliamo di malattie tumorali o meglio, di quanto c'è attorno a chi affronta questo percorso. E il 21 settembre, presso l'ospedale della Murgia Fabio Perinei di Altamura, la FIDAPA ha organizzato, presso il reparto di oncologia, un progetto, un incontro che si chiama Una stanza per un sorriso. E poi nel reparto di oncologia ci sarà anche l'inaugurazione di uno spazio per il benessere psicofisico delle pazienti oncologiche. Ti insegno un trucco. Qui abbiamo questa scelta di due slogan, diciamo così. Perché questo progetto racchiude più passaggi, ossia come abbiamo appena visto sulla locandina, il simbolo sono le donne che aiutano le donne. E in questo progetto, che prevede anche la firma di un protocollo d'intesa, dove la FIDAPA fa da gancio, da collante tra l'ASL e queste associazioni che sono associazioni di volontariato, quale la IRIS e l'Associazione Arcobaleni, saranno così messe a disposizione del reparto, quindi di queste donne che devono vivere questo momento non più come un momento di malattia, un momento di sofferenza, ma un momento dove credere di nuovo in se stesse, abituarsi quindi a curarsi e non soffrire più loro come i loro familiari. Perché dobbiamo imparare anche noi a convivere con questo, chiamiamolo così, problema o malattia, quindi a rendere il reparto umanizzato. E questo è stato anche il desiderio del professor Gennaro Palmiotti, che interverrà, quale oncologo, e lo stesso anche direttore sanitario dell'ASL, dottor Sanzonetti, come anche il dottor Vessia, che è il primario del nostro ospedale del reparto di oncologia. La FIDAPA si è fatta promotrice quindi di questo evento, sono state già pioniere la sezione di Policoro e la sezione di Matera e speriamo che in tutta Italia si possa cavalcare l'onda e quindi portare avanti questo bellissimo progetto perché va fatto, perché sono sempre di più le donne purtroppo che vengono colpite dal cancro, ma dobbiamo fare in modo che la vivano in una maniera più serena, ripeto, sia le donne che i familiari e chi sta a loro vicino. Per cui interverranno anche degli psicologi, la dottoressa Berenice Fiore, che parlerà di come aiutare le donne e i familiari a superare questo momento? Noi invitiamo i telespettatori, solitamente parliamo degli eventi dopo, quindi quando li raccontiamo anche nei nostri telegiornali, ma abbiamo preferito parlare di questo argomento prima dello svolgimento del convegno, perché vogliamo invitare tanta gente, sappiamo che molte persone cominciano un po' ad avere a che fare con queste situazioni, in Italia ci sono 120 mila donne che ogni anno si ritrovano a fare i conti con il cancro e solo di tumore al seno 48 mila casi nuovi all'anno, è uno dei più diffusi, però per fortuna è uno con la più alta percentuale di positività in termini di risultati medici e terapeutici, quindi si può sconfiggere il cancro, ma è importante che chi voglia sentire, parlare di queste cose, chi voglia ascoltare anche i relatori, segua questo incontro che ricordiamo si svolgerà lunedì pomeriggio nel nuovo auditorium dell'ospedale della Murgia e quindi credo per l'occasione sarà anche inaugurato l'auditorium, la stanza del sorriso verrà inaugurata in quell'occasione, in questa occasione sarà possibile per chi potrà, perché magari non tutti potranno salire nel reparto anche per rispetto di chi è lì in cura, visionare questo nuovo spazio dedicato oltre che alle donne a chi vorrà stare con loro, pazienti, parenti e soprattutto invito oltre alla cittadinanza e a chi vorrà fare la propria testimonianza, chi è del settore parrucchieri o estetisti perché con loro potremo creare un team, soprattutto in collaborazione con la Iris e con l'associazione Arcobaleni per poter creare anche in Altamura, quindi in Puglia questa flotta, questo gruppo di volontari e creare anche l'associazione Iris Puglia perché purtroppo da noi manca, in Basilicata si è sviluppata ma da noi manca, l'Iris si è costituita a Roma ma lavora in Basilicata, da noi purtroppo non c'è ancora. quindi Emilio Labriola e Anna Zaccaria che sono i rappresentanti dell'associazione Arcobaleni e la presidente dell'Iris, Brienza, sono loro che coordineranno con i nostri estetisti, i nostri parrucchieri queste attività, ci saranno degli appuntamenti mensili in cui loro faranno da collante tra questi esperti dove presenteranno come truccare le donne, come sistemare la parrucca e i pazienti ma anche i familiari, nello stesso tempo saranno presentati i prodotti della Bioniche che saranno poi distribuiti nelle farmacie di Altamura, nel caso specifico la farmacia Oreste ad Altamura, prodotti idonei per le pazienti oncologiche. C'è tutto un percorso, quindi c'è tutto un pianeta da sviluppare e da scoprire soprattutto sempre con il fine di aiutare chi è meno fortunato di noi. Senti, FIDAPA è attiva come associazione ad Altamura, vi state muovendo per bene in questi ultimi anni? Io nel mio biegno, che presto lascerò alla nuova Presidente, ho cercato di dare il massimo di me e soprattutto nella prospettiva di ingrandire sempre di più questo ampio sguardo al mondo delle donne ma anche di chi sta insieme alle donne. Quindi invito tanto a prendere parte alle nuove FIDAPine che vorranno affiancarsi e ad aiutarci a diffondere queste nostre iniziative affinché la FIDAPA sia sempre presente ovunque, ma soprattutto sia il gancio tra le istituzioni e chi ne ha veramente bisogno. Tanto c'è da fare ancora per le donne. Adesso è il momento della salute, ma ci sarà sicuramente il momento per sostenere queste donne che vengono da questi paesi sottosviluppati in questo periodo, ce ne stanno arrivando tantissime, bambini, donne, bambine. Quindi chi vuole mettere a disposizione il proprio io, la propria coscienza e il proprio sapere e la propria volontà, la FIDAPA è l'associazione giusta per farlo. Insomma è una giusta considerazione, osservazione che hai fatto anche perché oggi dobbiamo guardare al sociale e al rapporto con chi ha bisogno di aiuto in maniera un po' diversa, non dobbiamo più ergerci e metterci in una posizione un po' distante da queste problematiche, perché sono problematiche che interessano comunque la nostra comunità, la nostra società. Quindi ci sono i miei proprietari, il tuo percorso scade quando? Io cederò il mio incarico ad ottobre, la nuova Presidente Emanuela Vulpio, sono sicura sarà in grado come me e anche forse è meglio di me di portare avanti. Ah voi avete già, si sa, si direbbe dopo. Sì, abbiamo già decretato il nuovo direttivo e la Presidenza passerà all'ingegnere Emanuela Vulpio. Quante siete? Siamo circa 60 ad Altamura, ma siamo tantissime in tutta Italia e in tutto il mondo, ripeto, è un'associazione internazionale, siamo presenti al Consiglio d'Europa, siamo presenti in Parlamento, abbiamo delle valide rappresentanti in ogni settore della nostra… Qual è la condizione, visto che stiamo parlando di FIDAPA, qual è la condizione necessaria per accedere alla FIDAPA? Se una donna volesse entrare nella FIDAPA? Guardi, intanto sicuramente una buona volontà, tanta creatività, ma non potrei discriminare altre donne rispetto ad alcune. Sicuramente avere una buona preparazione per poter quindi stare al passo con la tecnologia più che altro, perché oggi si sa che la tecnologia ci dà una grande mano, ma se non c'è diventa tutto più difficile, quindi credo che sicuramente la buona volontà sia un elemento importante. Va bene, la puntata di oggi come avete visto sta andando avanti, vorrei ricordare perché oggi siamo qui con Rosanna Galantucci, Presidente della FIDAPA di Altamura per parlare dell'evento, del convegno, dell'incontro che si terrà lunedì 21 settembre presso l'ospedale della Murgia Fabio Perinei, alle 17 nel reparto di Oncologia ci sarà l'inaugurazione dello spazio per il benessere psicofisico delle pazienti oncologiche, ti insegno un trucco. E alle 17.30 nell'auditorium ci sarà la presentazione del progetto Una stanza per un sorriso. Ovviamente siete tutti invitati perché l'evento è libero, parteciperanno come abbiamo detto oltre ai saluti della FIDAPA, della dottoressa Rosanna Galantucci, la dottoressa Maria Antonietta Amoroso, Presidente del distretto sud-est FIDAPA, la dottoressa Antonella D'Aloiso, giornalista che farà anche da moderatrice. Interverranno il dottor Vito Montanaro, direttore generale della ASL, il dottor Sansonetti, direttore del presidio ospedaliero di Altamura, il dottor Giacomo Vessia, responsabile della struttura di oncologia dell'ospedale della Murgia di Altamura e anche Jenny Palmiotti, il dottor Gennaro Palmiotti, responsabile dell'unità operativa di oncologia medica dell'ospedale di Venere di Carbonara, anche la dottoressa Beatrice Fiore, psicologa, psicoterapeuta, la dottoressa Maria Pia Brienza, Presidente dell'Iris Basilicata ed Emilio Labriola, assieme ad Anna Zaccaria, Presidente e responsabile eventi per l'associazione Arcobaleni Rosa. Saranno anche presenti la dottoressa Silvana Fanelli, direttore sanitario dell'ASL Bari e la dottoressa Raquel Popolizio, direttore amministrativo dell'ospedale della Murgia. Ovviamente parteciperanno le autorità, sindaco di Altamura, sindaco di Gravina, probabilmente. I sindaci che saranno presenti sono quelli che fanno parte delle strutture sanitarie dell'ASL. Del territorio di competenza dell'ospedale, quindi dovrebbe venire anche Santeramo. Sì, è stato invitato il sindaco di Santeramo, ma anche Poggiorsini sicuramente, ma cerchiamo di diffondere il più possibile affinché, ripeto, questo progetto si possa ampliare in tutte le strutture sanitarie. Senti Rosanna, prima di chiudere questa puntata volevo farti una domanda. Tu sei molto sensibile a queste cose, perché abbiamo notato che hai fatto anche degli eventi con la tua azienda, a Natale hai fatto un evento con i bambini nel reparto di pediatria, cosa ti spinge? Perché spesso ci sono degli imprenditori che sono un po' distanti dalla realtà, sono un po' troppo materialisti. Tu invece abbiamo notato che hai una certa sensibilità. Non posso non dirlo e non negare che tutto questo ci è stato inculcato, a me come a mio fratello, dai nostri genitori. Mio padre in particolar modo è sempre stato sensibile al prossimo. Lui ha fatto dei sacrifici per arrivare alla posizione in cui è oggi e non può trascurare le difficoltà che ha superato e quindi voler condividere il bene di oggi. Ti sei un po' emozionato, è un argomento che ti tocca. Va bene, allora Rosanna, io non vorrei, come si dice, continuare su questo argomento, perché la sensibilità degli individui è una cosa bellissima, però spesso in questa città ci sono imprenditori che rinnegano un po' come si dice quella maggiore fortuna avuta un po' nella comunità, essere sensibili nei confronti di chi ha bisogno. È un gesto, è un dono grandissimo, ma non tutti riescono a comprendere la valenza di queste cose. Rosanna, dobbiamo dire che abbiamo notato, con i fatti, che è molto vicina, molto sensibile alle tematiche. Anche questa cosa che avete organizzato con la FIDAPA è una cosa che io consiglio di seguire perché ci sono molte situazioni in questa città, molte famiglie che stanno affrontando problemi con un componente della famiglia che ha un tumore o un sospetto tumore. Quindi vi suggeriamo di seguire questo evento, anche perché le persone che prenderanno parte a questo convegno sicuramente vi potranno dare anche dei suggerimenti, delle indicazioni su come poter meglio gestire tante cose, soprattutto al femminile, visto che Geni Palmiotti è un oncologo specializzato anche per chi ha superato gli interventi al seno, per cui è uno dei tumori più diffusi. È una grande firma dell'oncologia pugliese perché Geni Palmiotti, io personalmente lo conosco, è una persona di grande capacità e per fortuna ce ne abbiamo una così in Puglia. Va bene, ringraziamo Rosanna Galantucci, presidente della FIDAPA di Altamura. Grazie a voi per l'invito. Ringraziamo voi amici telespettatori per averci seguito, vi ricordo come sempre le repliche di questa trasmissione oltre alle 14.30, la vedrete stasera alle 22.30 e poi dopo la mezzanotte c'è anche l'altra replica notturna e la parte audio invece va anche su Canale 2 Radio, stasera alle 19 e domani alle 12.00. Bene, è tutto, grazie, ci vediamo alla prossima con Canale 2 C'è dopo il Tg. 3 C'è dopo il Tg.